e allora la mia compagna ha fatto 640 io ho battuto il regolo di 954 vediamo se lei batte il suo dai oh mi botta oh ma come fare oh 707 mi come un uomo amore ma stai scrivendo un uomo un medio uomo vizzi caro dai un altro wow 800 ha fatto amore hai battuto di nuovo 723 dai un altro 723 dai 723 dai impegnati 800 farai oh oh eh no però l'ase 720 adesso io dai adesso tu vediamo se fa per il mio 244 è il mio vorrei riuscire a fare a meno come 70 no però qua però qua basta basta ciao ciao vai 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 ah di nuovo 954 è il tuo ecco il mio mi piace il mio Grazie.